Ciao a tutti da Diego di TeaconoFan.it e benvenuti in questo nuovo video Oggi il protagonista è Cat S62 Pro Uno smartphone rugged, ovvero resistente a cadute, polvere, temperature, acqua Assolutamente non teme niente, dedicato soprattutto a chi lo utilizza in un ambito lavorativo Che non è il classico ufficio Questo dispositivo in più è professionale perché ha integrata una telecamera termica Ma non una telecamera termica giocattolo, ragazzi è veramente una telecamera termica di quelle professionali Quindi vi troverete due cose fondamentalmente in un dispositivo Oltre ad essere chiaramente ad uno smartphone Quindi il sistema operativo Android 10 che però è aggiornato appena lo accendete Vi fa subito l'aggiornamento ad Android 11 6 GB di RAM, 128 GB di memoria che comunque sono espandibili via microSD Ed una fotocamera principale che comunque può essere utilizzata tranquillamente per scattare le foto Ed è un dispositivo che resiste veramente a qualsiasi tipo di tortura Ebbene io l'ho torturato Nonostante avessi un pochino di perplessità L'ho torturato e guardate qua Ebbene io l'ho torturato Benissimo andiamo a vedere cosa offre la confezione All'interno troviamo Questa era la pellicola che era installata sul vetro del dispositivo Che ho rimosso dopo che i miei crash test diciamo battuto diverse volte sul display Si è leggermente segnata Tuttavia il display comunque è coperto da Gorilla Glass nella versione 5 Quindi Gorilla Glass super resistente Questa è la genio che serve per rimuovere il vano della nano sim E qua all'interno troviamo il caricabatterie con il cavetto USB Perché il caricabatterie è il caricabatterie classico da 2A Non c'è le cuffiette, gli auricolari non ci sono Andiamola mettendo via e concentriamoci sul dispositivo Cut S62 Pro ha un processore Snapdragon 660 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna La memoria è espandibile attraverso lo slot per la microSD Che lo trovate sotto questo cassettino che vi ricordo è stagno Lateralmente qui troviamo un pulsante Questo è il pulsante unico che serve per personalizzarlo Ovvero se io lo premo due volte ho messo l'attivazione della torcia Ok con due volte si riblocca Se invece lo tengo premuto lui andrà ad aprire la FLIR camera Chiaramente tutto questo è personalizzabile C'è anche la possibilità di utilizzare con un tocco Io l'ho disattivato perché magari a volte mi sbaglio Quindi non voglio che mi partano delle app a caso fondamentalmente Lateralmente dalla parte opposta Troviamo il tasti per la regolazione del volume e il tasto di accensione Ecco il tasto di accensione sinceramente me lo sarei aspettato in basso Perché a volte mi viene da schiacciare questo per sbloccare il display E invece l'hanno messo in alto che non è comodissimo da arrivarsi Comunque ci faremo poi l'abitudine Non è assolutamente un problema Nel retro troviamo sblocco per le impronte Che funziona bene, è molto rapido Capisce praticamente in qualsiasi tipo di condizione Tranne che quando avete i guanti E quello ragazzi non ci si può fare niente Dovrete mettere il passcode Il display 5,7 pollici Un display LCD molto molto luminoso Che può essere anche utilizzato con i guanti E nel retro troviamo fotocamera principale da 12 megapixel Fotocamera che può essere utilizzata tranquillamente per scattare foto normali Non è assolutamente un flash chip per quanto riguarda le foto Però qua sopra c'è la fotocamera termica FLIR E qua davvero è quello che fa la differenza È una fotocamera di livello professionale Lepton 3,5 Lego eh ragazzi Con uscita HD 1440x1080 con Vivid R La sovrapposizione, scusate, lineare delle due foto È garantita grazie alla funzione MSX Ovvero può scattare due foto in contemporanea E sovrapporre poi l'immagine termica con quella originale Funzione davvero comodissima E in più ha un intervallo misurabile di temperatura Che va da meno 20 gradi a più 400 Davvero esagerato direi Per quanto riguarda invece la protezione agli urti e le cadute È certificato IP68 e IP69 Resiste a sabbia, polvere e sporco È impermeabile fino a 1,5 metri per 35 minuti E resiste a terza di caduta fino a 2 metri Ok? Fino a 1,8 metri, scusate Tra l'altro, tra le specifiche È certificato dagli amerigani MIL-SPEC 810H Che vuol dire shock termico Resiste a differenze di temperature Da freddo a caldo Comprese tra meno 25 e più 55 gradi Per un massimo di 24 ore Quindi se siete degli escursionisti Beh questo sicuramente non vi abbandonerà La batteria da 4000 mAh Una batteria che vi permette di arrivare tranquillamente a fine giornata Si ricarica in circa un'ora e mezza con il caricabatterie in dotazione Ok, vediamo adesso l'esperienza di utilizzo proprio del sistema operativo Andrò nella versione 11 La cosa bella è che è stock Ovvero come mamma Google lo ha pensato Quindi non c'è un'interfaccia sopra all'interfaccia di Google Quindi è originale fondamentalmente E devo dire che funziona molto bene GPS di Maps rapido Le applicazioni si aprono in modo veloce Quasi istantaneo Potete aprire applicazioni una dietro l'altra eccetera eccetera E poi ritornare da una all'altra con lo switch tasker Ok, vedete che nel complesso si comporta davvero molto bene Il browser è Google Chrome Classico Anche in questo caso la navigazione è tranquilla Diciamo che non ho trovato grossi problemi di fluidità Per quanto riguarda questo dispositivo Ma non vedevo l'ora di parlarvi della fotocamera termica Io dai su, allora andiamo in galleria E vedete questa è la fotocamera termica Mi sono divertito davvero tantissimo Ok, è veramente una figata Questo cos'è? Si riconoscete? E il gatto Allora la fotocamera termica può essere utilizzata davvero per fare qualsiasi cosa Dalla semplice ricerca di un animale Di notte, vogliamo trovare il nostro gatto Dove è andato a finire? Ecco in questo caso lo vedete assolutamente Ha la possibilità di controllare la dissipazione magari di un computer Oppure che so se i termosifoni sono accesi Ad esempio qui sono a lavoro Ma sono accesi i termosifoni? Eh beh sì, sono accesi Ecco lì E danno una temperatura in questo caso di 37,1 Nel punto in cui ho misurato Chiaramente Poi vedete se vado a misurare con il puntatore direttamente sul termosifone Vedete che indica 51,1 gradi La cosa molto interessante è che ad esempio questo è un caffè Ok? La temperatura del caffè non era proprio elevata E che possiamo anche vedere vedete la media di temperatura Media, massima e minima Ma un'altra cosa molto interessante è che possiamo creare un report Ok? Se noi andiamo nelle impostazioni Ok scusate ho sbagliato Ah ok eccolo qua Ho sbagliato Vedete? In questo caso possiamo selezionare un tipo di report E vi farà vedere foto normale Foto con la modalità diciamo termocamera E qua tutti i dettagli E questa è una cosa davvero molto interessante Soprattutto per chi lo utilizza davvero per lavoro La fotocamera termica si lancia tramite l'avvio dell'applicazione E vi dà la possibilità di gestire diverse funzioni Allora la faccio vedere mentre inquadro questo succo di frutta O fruttino che ho appena tirato fuori dal frigo Andiamo a misurare la temperatura Ok? Quindi andiamo a mettere Selezioniamo Vedete? E mi dice che è 7,2 gradi A seconda di dove lo andiamo a muovere Vedete? Sta aumentando 9 gradi Ok? Se scattiamo la foto Chiaramente rimarrà impresso con il nostro puntatore Diciamo della temperatura Possiamo poi anche scegliere di andare a modificare la foto Ovvero scegliere vedete di aumentare o diminuire La fusione tra la fotocamera termica oppure la foto originale Ok? Mentre la funzione MSX diciamo è quella automatica Abbiamo la possibilità di attivare e disattivare la riga della temperatura E questa è la modalità ad alta temperatura Se dobbiamo misurare delle temperature che vanno ad esempio sopra i 100 gradi È semplice da utilizzare Possiamo utilizzare anche uno zoom Possiamo anche scattare Oltre alle foto anche registrare dei video E fare dei time lapse Che sono davvero molto comodi Io ripeto soprattutto per chi la utilizza per lavoro Può essere utilizzata Soprattutto anche per vedere se dalle finestre ci sono degli spifferi Davvero che penso che l'utilizzo Che comunque chi sa utilizzarla lo sa farà meglio di me Come si utilizza E come vi ho detto le foto scattate con la fotocamera termica Sono nell'apposita libreria a parte Diciamo non sono mescolate con le foto scattate dallo smartphone Adesso questo me lo vado a bere più tardi Per quanto riguarda le foto scattate con il dispositivo Andiamo a vedere le foto sul dispositivo Devo dire che di giorno assolutamente le foto hanno un buonissimo aspetto Gradevole molto molto luminoso Ha tra l'altro un HDR automatico che funziona bene Di notte chiaramente la qualità non è eccellente Però sinceramente credevo peggio E ragazzi credevo decisamente peggio Mentre per quanto riguarda la registrazione dei video È in grado di registrare i video fino al 4K Ok? Però non ha nessun tipo di stabilizzazione Quindi i video potrebbero essere un pochino tremolanti Però come ho detto non è chiaramente la sua funzione principale Quella di scattare le foto da mettere su Instagram O fare i video da montare e poi pubblicare su YouTube Per quanto riguarda la durata della batteria Il display sono arrivato ad utilizzarlo fino a circa 7 ore E come ho detto la batteria è da 4000 mAh Però si riesce tranquillamente ad arrivare a sera È un dispositivo LTE Plus Ha una buona ricezione Connettività Bluetooth nella versione 5 All'NFC Quindi può essere utilizzato anche con Android Pay Il Wi-Fi nella versione dual band L'USB è di tipo 2.0 Supporta anche la possibilità di collegare I dispositivi esterni come chiavette eccetera eccetera E questo è una roba davvero molto molto comoda Comica Non aveva proprio senso E il GPS è davvero molto veloce anche a GPS Bene siamo arrivati al momento delle conclusioni Cut S62 Pro ha un prezzo di listino di 599 euro Un prezzo sicuramente non accessibile Però neanche decisamente troppo elevato Perché comunque avendo una telecamera termica integrata Che comunque se andate a comprare esternamente A un prezzo di 300 euro E che comunque poi dovrete usare lo smartphone Per scaricare le immagini Bene è davvero un ottimo prodotto Chiaramente è un prodotto che non è per tutti È destinato a delle persone che utilizzano principalmente La telecamera termica oppure che cercano davvero un dispositivo Che può essere utilizzato in qualsiasi condizione In un cantiere, in un'officina Da qualche parte vi cade nell'olio Non succede assolutamente niente È un dispositivo davvero resistente Tra l'altro lo smartphone Ha alcune funzioni che sono davvero molto comode Come ad esempio la possibilità di utilizzarlo Con il tasto dedicato personalizzabile Ma in più si può anche utilizzare con i guanti Questa è una cosa davvero molto interessante Va attivata dal menu Conclusioni Bello, mi è piaciuto Chiaramente come ho detto prima Non è uno smartphone per tutti Però in ambito lavorativo Ha davvero un senso Un dispositivo del genere Funziona molto bene Il software è pulito Fluido Come avete visto all'interno Troviamo Android nella versione originale Senza nessun tipo di personalizzazione E non ho trovato particolari bug L'unica cosa che ho trovato Che magari verrà poi risolta con un aggiornamento software È il sensore della luminosità Che non è proprio rapidissimo Nel percepire le condizioni Diciamo di luce attuale Quindi di aumentare e diminuire La luminosità del display Se siete interessati Lo potete acquistare anche su Amazon A questo punto io vi lascio il link Per l'acquisto sotto alla descrizione del video Questo era CAT S62 Pro Uno smartphone che come sempre CAT fa degli smartphone fuori dagli schemi Però devo dire che ha davvero un senso Proprio se lo utilizzate in ambito lavorativo Abbastanza pesante Se così si può dire Ciao da Diego